Raga? Oddio Eh... Cosa è stato problemi questa qua? Comunque di questo nuovo video, io sono Gazzaro4 Allora ragazzi, oggi siamo qui su Farming Summuto 22 Nella mappa Emilia di Domod Allora, 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 oggi siamo qua Soli, soletti, nella mappa Emilia Che dobbiamo, come avete visto dal titolo Copertina, eccetera, eccetera Dobbiamo iniziare a raccogliere anche le patate Ma dobbiamo fare prima un po' Preto di cosettina, ovvero finire qua Di fertilizzare questo vigneto E dopo dobbiamo, se non mi incasta Prima però, dobbiamo anche Tanto qua, a posto le corte le avevo già fatte prima Dobbiamo anche raccogliere per la prima volta Il sorgo, il... No, 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 no Cosa cazzo era? Il segale, il segale Il segale farro, giusto, giusto, giusto Quindi possiamo mettere questo qui Qui, andiamo subito a dormire Però, ovviamente, prima deve salvare il gioco Quindi, andiamo qua Bello di corsa Corri, 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 corri Come? Voi dovete correre Per lasciare un like E un commentino E un'iscrizione a questo bellissimo canale Quindi, supportatemi Grazie mille a tutti E dovete correre sul sito Viola Che te lo dà sempre il link In iscrizione anche su TikTok E Instagram, ovviamente Nel mentre, qui siamo andati A luglio Vediamo un pochettino Allora, stato debito Diciamo che sta andando giù Però oggi dobbiamo noleggiare Un altro attrezzo Che serve per raccogliere patate Però, con calma Intanto Siamo a luglio Ma è pronto Cosa avevo pentato qua? Il segale? Può essere? Ok, qua c'è il segale Il campo 29 Quindi questo significa Che devo Oddio È un po' ingastrato Il metri trebbia Ma posso prendere la New Holland? Ma sì, prendiamo la New Holland Che No, la New Holland No, il gioco ha detto che Vuole questa È nulla Cerchiamo un attimo di uscire qua In ogni caso Scusate ragazzi Ovviamente Questo video dovrebbe uscire Intorno a Natale O il giorno di Natale Non lo so Non credo però a Natale Penso o Santo Stefano O il giorno prima Quindi in ogni caso Prima che mi dimentico Dobbiamo mettere L'albero di Natale Che però non so Dove era Perché l'anno scorso L'avevo messo Penso che non l'avevo tolto Infatti Eccolo qua L'albero di Natale Vabbè Quindi dai Mettiamo un po' di alberi Sparsi per la farm Tipo Possiamo mettere Per decorare Uno tipo qui Perfetto Poi uno Possiamo metterlo Possiamo metterlo qua Un altro Possiamo metterlo Qua E un altro qua Giusto per Così Giusto per Un po' di alberi Che decorano questa Questa fama Siccome appunto È Natale Quindi ovviamente Auguri anche Alle vostre famiglie Amici Zii Parenti In ogni caso Condivete il video Con i vostri amici Così faccio anche Auguri ai vostri In ogni caso Portiamo questa Bellissima fenda Sul campo 29 Che dobbiamo Raccogliere Questo segale Speriamo Di non ingassarsi Durante il Tragetto E ci vediamo Appena sono Arrivato al campo Allora siamo arrivati Aspetta Ma c'è o non c'è il segale Nel cinso Ah sì sì Ah ok Sì che c'è Vedo tutto passato Ho detto Ma Non c'è È morto Quindi Dispeghiamo Con la nostra Mettitrebbia Sperando che la lama Vada bene Sì beh Dovremmo andare bene Beh lo scopriamo subito Abbassiamo E Perfetto Ok funziona Possibile fare magari Un po' di paglia Yes Vai Fammi tutta la paglia Quindi raccogliamo il segale Mai fatto in vita mia Una bomba Spero che mi stia tutto dentro L'Amititrebbia Così da non portare Un carrellino Penso che mi stia Perché alla fine Il campo è molto molto piccolo Vabbè Raccogliamo Tutto questo Tutto questo segale Oddio 98 99 No raga No Non si credo Non si posso credere Vedete Non si butta via nulla Quindi Andiamo Qua E ne appende Con il nostro Zaccaria Questo Questo segale In ogni caso Dopo vado avanti Con il gioco Ad agosto Così teoricamente Sono pronte Anche le patate E così Iniziamo a raccogliere patate Allora Siamo ad agosto Sono le 11 Perché Vabbè Allora Vediamo un attimo Cosa importante Perché è rosso Oh Che è successo Sono morte Rimuovi steli Giusto In ogni caso Il farro è pronto Sì È pronto anche il frumento Allora I soldi Celi ho Cosa significa Che dobbiamo andare Su tecnologia Qui Raccogli cose E questo Minchia 30.000 euro Pensavo che me la cavoco Molto meno Vabbè In ogni caso Miss Ever Questa Quindi Saliamo qua sul veicolo Mamma mia Mamma mia Che bestiolina Ok No 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 Voglio solo vedere L'interno Ah Pure le telecamere Le cose Una bella visuale Attrezzo santa Il computer di porto Ok Portiamola sul campo Allora Iniziamo comunque Di spiegare questo Attrezzo Quindi piano Ok Aver pure il tubo Qua Vabbè Minchia Un transformer A posto Non è per dire Cos'altro Vero Più di così Abbassiamo Accendiamo E teoricamente Raccoglie patate Perché Perché non cazzo Oh Che cosa cazzo ha Oh Raga Oh dico Eh Ha causato Problemi questa qua Aspetta Un attimo Provo a uscire ad entrare Vediamo se si sbagga Allora Dove mi ha salvato Mi ha salvato A luglio 8 e mezza Allora Teoricamente è risolto Adesso Riportiamo il gioco Dov'era La prima Rinnoleggiare E vediamo Se si sbagga In tal caso Non lo so Allora qui da portare Intanto il gioco Avanti Fino alle 11 Ok Intanto Facciamo così E Andiamo lì E proviamo Allora Adesso lo dispieghiamo Di nuovo E dispiegata Dispiegata No Ok Da errori Da ancora errori Allora Questa qui Se Se tu mi ci Questa Questa no Questa qui Quindi adesso Mi ho detto Questa qui Quindi Prendiamo Questa Che è Quella Multifruit Che c'è anche Sì Della L'uva Ah Ecco Dov'era Il problema Questa qui Andiamo in conflitto Con la mappa Probabilmente Quindi con questa Teoricamente Non abbiamo Problemi Allora Abbassiamo Accendiamo Ah Finalmente No Aspetta Ah Ok È vero Giusto Ci mette un attimo Le patate Dal A fare tutto Questo Per cosa Minca Partono da qui Vanno su per il nastro Vengono Non lo so Passate qua E alla fine Vengono scaricate qua Sì però C'è un problema Ragazzi Che io qua Lavoro in tre metri E ho tutto questo Campo di patate Lo vorrei Io so fare Al lavoro Spero proprio Di sempre Perché se no È un problema Poi pure Questa ha una Capacità Veramente minuscola Quindi In tal caso Prendiamo Atmo questo qua Andiamo In più gas Che c'è un Carrerino Più potente Più grande Quindi In caso Prendiamo Quello Molto Molto Semplicemente E Non posso dire Lo utilizziamo Per raccogliere patate Di sì Però è bello Dopo le patate Le posso mettere Dentro Quindi Risolveremo il problema Che avevamo ancora Nel nostro episodio Se posso scaricarle Dentro la fama Degli animali Dentro il silos Che ci sono Dalla fama Dei maiali Perché se posso scaricare Dentro là Ottimo O se no Utilizziamo Un'altra mod Che ho Aggiunto Quindi la mod Che altrimenti Sto utilizzando È Su mod hub E risolve Praticamente Questo problema Con la winner pack Con la raccoglitrice Da winner pack Che mi è stato spiegato Da un ragazzo In live Quindi Per fortuna Che resistere Sennò Difficilmente Ne sarei Venuto A conoscenza Di questa Raccoglitrice E di questo Problema E ogni caso Fammi vedere Perché questo qua Non va più Perché è andato Inferi Il nostro amico Ma io penso Che posso utilizzare Questo Posso mettere Il crossplay Intanto Ok A posto Bello che io So settare Il crossplay Che No no È giusto È così giusto Au 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 Non fammi incazzare Crossplay Che sei giusto Così Ora posso Settare il crossplay Che va a scaricare In automatico No Cioè mi pare Mi pare che fosse Possibile Cioè sì Vado qui Faccio Crea lavoro Scarichi Unitrebbia Inizia lavoro Boh vediamo Cosa potrebbe Succedere Allora Intanto che noi Facciamo questo Quindi vediamo Se tutto questo qua Funziona Dobbiamo raccogliere Anche il No il segale Il farro Quindi questa Quella Li portiamo indietro E ovviamente Vediamo qua Contrattore Iniziamo a imballare Così vediamo Che deve Un altro problema Ovvero Se non so Vi ricordate Però Delle balle Che diciamo Non si caricavano Ecco Diciamo Provevo pure Questo problema Però prima Portiamo questa qui In farm E la iniziamo Iniziamo a raccogliere Il farro Questo qua Ah L'albero Ok Mamma Tutti questi alberi Effettivamente Danno fastidio Passiamo per di qua Risolviamo questo problema Vai Ma? No Si è bloccato di nuovo No Cristo Dio Ragazzi È bloccato di nuovo Ritiamo un attimo Dentro la mappa E iniziamo a raccogliere Il farro Molto semplicemente Spero che il prima possibile Risolvano questo problema Quindi Tutti si potrebbero aspettare Che venga aggiornata E risolto questo problema Allora Qua sono belli Che arrivati Quindi Abbassiamo Accendiamo E via Che poi io Il segale L'ho fatto Più che altro Per venderlo Ok Quindi Facciamo così Questo qui Oddio Si ma sono 20.000 letri Non è che sia tutto questo Granché Poi va al 900 euro Dov'è il mulino? Il mulino è qua giù Eh Boh Dai Porta questo qua a vendere Mai si Allora Giù per di qua Dentro qui devo vendere Oddio Penso di si comunque Sì Vai Ok Perfetto Ottimo L'operaio qui a quanto pare È già full Perfetto Ah me l'ha fatto qualcosina Allora Non di caso ragazzi Grazie per aver visto questo video In questo video Avevamo visto Diciamo come si risolve questo problema E da cosa È successo Quindi Quando non fate patate Non di caso Grazie mille per aver visto Fino a questo punto Non di caso Per di qua C'è il tasto per iscrivervi Per di qua C'è La playlist E appunto Un video A caso Quindi Da me è tutto Ci vediamo Nel prossimo video Bella